Buonasera, sono Francesca Valentini, presidente del club Alba Trentino, vengo da Trento, studio a Bruxelles, dove ho appena finito il mio master in diritti umani e migrazione e oggi sono qui ad Alba come rappresentante del club, in quanto questo forum è un'enorme possibilità per tutti noi giovani e soprattutto anche per i giovani trentini. È una piattaforma internazionale interdisciplinare che copre aree di studio, aree tematiche che vanno dalla scienza alla tecnologia, alla cultura, alle scienze politiche. Questo forum, fondato nel 1945, si dedica alla creazione di un dialogo non solo tra vari stati, ma anche tra varie generazioni, tra vari interscambi culturali o ideologici e quindi ricopre ogni anno una tematica molto importante e rilevante soprattutto per noi europei e quella di quest'anno infatti è il cosiddetto New Enlightenment, ovvero nuova illuminazione, chiamiamola così, nel senso che è una ricerca di nuove idee e da parte sia di giovani che di esperti internazionali di una costruzione insieme di un'Europa e di un mondo più aperto, con più sicurezza, più diritti umani, più libertà e più pace. Pertanto questo forum è dedicato principalmente ai giovani nella prima settimana, quindi nella sua prima parte, ovvero la cosiddetta Seminar Week e il secondo periodo è il periodo dei simposi, ovvero sono conferenze in cui partecipano speakers internazionali divagando tra tecnologia, educazione, ambiente, cultura e facendo quindi un interscambio intragenazionale e interculturale che è credo oggi giorno super importante per l'Europa e per lo sviluppo dell'Europa di oggi. Come Albach Trento che cosa organizzate e quali eventi proponete durante l'anno? Il club Albach Trentino è nato circa tre anni fa e noi ci proponiamo due obiettivi principali. Il primo obiettivo è appunto quello di raccogliere delle borse di studio in modo tale da garantire ai giovani trentini di poter partecipare a questo forum, mentre dall'altra parte cerchiamo di portare lo spirito di Albach che qui si sente ovunque, in qualsiasi momento, anche in Trentino e vorremmo fare questo e facciamo questo da tre anni in collaborazione anche con l'Università di Trento, creando cineforum, conferenze, creando un interscambio di idee tra studenti trentini, studenti anche in quari sede e quindi cercando un po' di riunire tutto quello che viene raccolto ad Albach durante l'estate e riportarlo durante l'anno appunto in Trentino.